La città di Foggia Grande il disagio per pedoni automobilisti, costretti a dover intraprendere percorsi più lunghi per aggirare la zona circostritta e poter raggiungere le proprie mete. In alcune strade non sono mai stati previsti abisi per indicarne l'impraticabilità, costringendo quindi i veicoli a dover compiere snervanti deviazioni di percorso per poter riprendere correttamente la circolazione. Lentezza non è sempre sinonimo di accuratezza e le strade di Foggia lo dimostrano appieno. I lavori, infatti, oltre che ad essere lenti, sono fatti anche male. Si può dire sia ormai un vizio quello degli addetti ai lavori a lasciare incomplete le riparazioni, creando così dislivelli e fossi sul piano stradale, che oltre a danneggiare le autovetture costituiscono un pericolo per l'incolumità dei pedoni, i quali, passeggiando, potrebbero inciamparvi incorrendo in distorsioni o cadute. Lavori dunque fatti con i piedi, che invece di migliorare la situazione non fanno altro che peggiorarla. Con il tempo, infatti, l'asfalto più recente, attaccato sul vecchio per otturare le fosse, inizia a rompersi e le strade tornano ad essere anche peggio di prima, con rischi per l'integrità di mezzi e persone. È ovvio che ciò significa, oltre che continuo disagio per i cittadini, nuove ripetute spese in altro materiale e mano d'opera. Soldi pubblici, quindi, che si potrebbero spendere benissimo per qualcosa di diverso, naturalmente utile per la collettività. Una programmazione più attenta da parte dell'ufficio tecnico, che sovrintende alla gestione dei lavori nella città, risolverebbe sicuramente il problema. Ma come succede sempre in questi casi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Grazie a tutti.